buon pomeriggio a tutti ragazzi buon pomeriggio non sono sparito dai social solo che sono stato due giorni un pochettino indaffarato sta uscendo ormai manca un mese al manuale 3 che uscirà a natale e perciò stiamo lavorando su questo e ci sta portando via tanto 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 tempo ci sarà questo manuale 3 che all'interno ci saranno 10 formulette bellissime ci sarà la formuletta per lambata per l'ambo secco per il terno per il terno formuletta che tra virgolette garantisce il terno secco su tutte la formuletta per la quaterna quella che ieri abbiamo abbiamo preso lambo nel gruppo matos ma è la quaterna che si gioca per tutto il mese per un punto non facevamo il terno e poi ci sarà la super super formula formulona perciò stiamo sto lavorando a questa questa questo progetto che uscirà fra un mese perciò sono veramente indaffarato allora ieri sera serata d'estrazione per quanto concerne la previsione che vi abbiamo regalato su youtube è rimasta eccola qua ovviamente non sono quattro colpi ma sono tre colpi 64 18 36 tre colpi di gioco molti già si stanno dando la zappa sui piedi ma è una previsione che era valida per otto colpi insomma ne rimasti tre speriamo ha sempre pagato e speriamo che non ci deluda proprio questo mese che l'abbiamo messo in campo noi allora perciò si continua nel più modo assoluto il 90 baricagliari ovviamente secondo colpo di gioco ve l'ho regalato a tutti e all'interno del servizio telefonico trovate il 90 da sballo del capitano ok 90 con un numero gemello e ovviamente giochiamo per l'ambo secco poi se seguite il consiglio telefonico vi dice cosa mettere per provare il terno il 6 di fuoco ieri sera pazzesco il 6 è uscito sulle ruote dove le giochiamo noi non si è abbinato con l'unico abbinamento ma ovviamente sapete che quel doppio 6 ieri riporta in gioco di nuovo il 6 perciò il 6 di fuoco vi ricordo che queste due previsioni potete prenderle ancora oggi e domani poi domani io domani sera con l'estrazione io le tolgo ok perché funziona così noi le teniamo per una settimana poi le teniamo la settimana equivalgono a 4 colpi di gioco il servizio telefonico è attivo dalle 15 895 895 5541 molti di voi si sono lamentati che non sono riusciti a prendere la previsione e in effetti abbiamo controllato tantissime chiamate come sempre ragazzi cercate quando trovate occupato mettete giù e poi e poi riprovate perché tanto i miracoli non possiamo farli occhio a quel baricagliari col 90 e occhio a questa previsione perché sono rimasti 3 colpi dal capitano è tutto un grosso peso ciao